benvenuti a compila quindi va buonasera prova prova 1 2 3 che facciamo ripartire la musichetta come va sono stanco morto questa è una settimana veramente di quelle che io mi sono reso conto che lo dico tutte le settimane quindi sono un po monotono però effettivamente è vero e quindi la settimana tra lavoro appuntamenti commercialista palestra e quant'altro commissioni veramente è impegnativa ok così cominciamo questa live in realtà ho visto che non avevo aggiornato l'orario quindi ho detto rimango indeciso tra le 9 e mezza alle 9 partiamo a metà così non scontentiamo nessuno si questa live era poco pubblicizzata ma poi alla fine quello che faremo è continuare poi il lavoro che abbiamo già iniziato la settimana scorsa con la nostra applicazione cina mobile per android che abbiamo realizzato e quindi l'intento è quello di proseguire la codifica di questo progettino dato che eravamo arrivati a un risultato comunque funzionante qualcosina c'era quindi c'era già una ricerca del cocktail ripeto per chi non ha per caso visto la live precedente abbiamo fatto un po di decoding andando praticamente a creare con delphi un'applicazione mobile per android anche se in realtà abbiamo poi testato inizialmente su windows ma questo è un po il vantaggio anche di usare sia delphi come ambiente di sviluppo che firemonkey in questo caso che è la libreria che ci aiuta a livello visuale come dire a realizzare l'interfaccia della nostra applicazione quindi una libreria grafica quello che avevamo fatto infatti tra le altre cose era personalizzarla dal punto di vista dell'aspetto quindi andarci a importare uno stile un po particolare quindi dare all'applicazione un certo appeal quello che abbiamo fatto vedere è che si potrebbe dare un certo appeal ecco poi io non sono un designer quindi mi ero limitato un po a qualche customizzazione veloce quindi abbiamo imbastito questa applicazione mobile con un modulo che sostanzialmente conteneva lo stato dell'applicazione in questo caso poi a grandi linee la pagina visualizzata e un pochino di codice che servisse di fatto per andare a intercambiare queste pagine in modo da passare da una videata all'altra quindi da un home page con un logo e un pulsante per avviare la ricerca dei drink una casella dove mettere ovviamente il nome iniziale del drink e andare poi a fare la ricerca di un drink per vedere poi i risultati e l'ideale sarebbe a questo punto entrare anche in un dettaglio e vedere un po il dettaglio del drink che è stato selezionato andandolo sempre ovviamente a scaricare tramite apposite API eccetera eccetera quindi andare poi a completare il giro dell'applicazione quello che ho visto è che forse l'altra volta ha complicato un pochino l'architettura partendo già da un qualcosa di molto forse sovra ingegnerizzato ma perché so già un po che molte delle applicazioni poi hanno la necessità di essere strutturati in un certo modo e quindi da questo punto di vista avevo già iniziato a mettere degli elementi che magari inizialmente potrebbero sembrare un po non dico superflui ma come dire qualcosa di evitabile o di come dire inutilmente complicato almeno per il momento per l'applicazione che dobbiamo fare quindi stavo quasi pensando questa sera di provare a usare un altro spediente ovvero uno dei template che ci offre già Delphi come dire di suo che però adotta un tab control noi la volta scorsa l'abbiamo evitato dal punto del controllo a schede dove praticamente noi abbiamo n pagine e possiamo passare dall'una all'altra tra l'altro un effetto di slide quindi qualcosa di questo tipo per passare magari da una lista a un dettaglio e così via quindi noi avevamo già operato in maniera come dire un pochino più più diligente dividendo l'applicazione con dei frame abbiamo perso qualche feature ossia la possibilità di vedere magari delle animazioni ma l'idea era quella poi di andare a integrare un componente che si chiama eventualmente poi vediamo che si chiama frame stand per farci un po' orchestrare queste viste e farci dare una mano nell'andare a buttare giù un po' l'architettura migliorata della nostra applicazione quindi eventualmente noi completiamo magari il progetto e vediamo un attimo poi come rifattorizzarlo utilizzando questi strumenti ed eventualmente migliorando sia il codice ma sia anche il funzionamento dell'applicazione in sé quindi di come l'applicazione si muove come funziona e così via per cui per cui per cui ora lancio anzi ho già lanciato l'applicazione che partiva in background l'idea che sta parlando in background quindi andiamo un attimo a guardare eccoci qua con il nostro id quindi giusto per ripassare un po' quello che abbiamo fatto non per voi ma per me che non me lo ricordo anche se è passata una sola settimana non mi ricordo una cippa e quindi avevamo messo quindi una finestra principale quindi questa è la nostra main form sembra vuota ma in realtà vuota non è perché abbiamo tra l'altro adesso mi doto anche di questo simpatico tulettino così riusciamo a vedere nel dettaglio quindi abbiamo messo anche se non si legge benissimo perché è nero su nero il componentino stylebook per la nostra app ovvero il ops non volevo scusa non volevo cambiarti il nome volevo solo richiamare l'editor ok quindi abbiamo tutti gli stili dei pulsanti delle caselle di testo degli edit quindi eravamo andati a importare in questo componente uno stile avevamo visto che in Firemonkey c'è questa libreria visuale gli stili lavorano un po' come CSS cioè il pulsante è tale perché è definito da un in questo caso qualcosa che si chiama button style cioè da un contenitore che all'interno mette assieme testo grafica quindi una glyph mette assieme un riquadro che traccia cioè che mappa un bitmap e ne mappa le aree sensibili in modo da definire gli spigoli i contorni eccetera in modo pixel perfect oppure come era stato fatto in questo caso un semplice rettangolo quindi l'aspetto che noi vediamo di un pulsante è un pulsante perché viene disegnato con quell'aspetto ma noi potremmo anche andarlo a stravolgere completamente facendo in modo che appaia non so tondo non con la scritta ma con un'icona al centro che magari invece che una sfumatura esterna un glow gli compaia un bordo colorato magari si allarghi quando ci andiamo sopra col mouse si restringa quindi possiamo customizzare al cento per cento tutta la nostra interfaccia e come dire distribuite assieme all'ambiente di sviluppo ci sono già degli stili preconfezionati con cui noi possiamo andare a mimare in questo caso le gli stili tipici degli sistemi operativi che riusciamo a indirizzare con con fire monkey quindi abbiamo degli stili simile windows simile android ios per disegnare l'interfaccia con quello standard oppure stravolgiamo completamente il design ne facciamo uno completamente nostro che sia uguale a questo punto sia su windows che su tutte le piattaforme questo non vuol dire rinunciare poi a tutte le convenzioni cioè noi possiamo ad esempio usare un controllo a schede cambiare nell'aspetto ma ci sono alcuni dettagli che potremmo lasciare sempre scegliere alla piattaforma cioè la libreria ad esempio il fatto di mettere i tab in basso se siamo su ios metterli in alto se siamo su android ci sono alcune impostazioni che tra le scelte che noi possiamo fare c'è anche un platform default che non vuol dire un valore fisso ma un valore che varia a seconda della piattaforma e quindi diciamo segue un po le abitudini degli utenti che utilizzano ios oppure android seguendo le loro convenzioni quindi facendo un po contente le abitudini pur avendo un aspetto che a quel punto noi ci possiamo customizzare personalizzare a tutti gli effetti completamente quindi qui avevamo scelto il nostro pulsante qui c'è un'area di progettazione dove andare a scegliere qui vediamo tutti i componenti da cui è composto quindi c'è il famoso glow effect quindi anche gli effetti applicabili sono dei componenti quindi li possiamo scegliere li possiamo trascinare sulle nostre interfaccia oppure qui nella definizione di stile e a quel punto abbiamo un effetto cioè abbiamo una casellina che è un effetto che noi possiamo come dire andare a programmare dicendogli magari di entrare in funzione quando vado sul sull'oggetto col mouse oppure quando esco con il mouse e quindi in questo caso il glow avrà dei trigger se noi andiamo a vedere come è configurato scopriremo che qua sotto vedete che c'è un trigger is focused vuol dire che è assegnato a un riquadro il nostro rettangolo al pulsante quindi nel momento in cui andiamo sopra con il tab quindi spostiamo il focus sul pulsante senza scrivere codice questo effetto è agganciato monitorizza quello che succede quando vede che c'è questo stato impostato impostato si attiva perché inizialmente è nebo da false in questo caso si attiva e mette questo colore fa un effetto glow quindi di traslucenza c'è un po di quell'effetto molto soffice di luce all'esterno che circonda il pulsante solo ovviamente se abbiamo fatto un tab o se ci spostiamo sopra quindi se vado in questo riquadro a destra faccio vediamo se ci arrivo col tab ma magari mi basta cliccarlo nel momento in cui l'ho cliccato che lui anche il focus quindi qui noi siamo su windows su windows c'è un triangolino c'è un rettangolo tratteggiato per indicare quali pulsante nel focus qui si è stato è stato scelto quell'effetto e lo vediamo non so se si poi si nota bene ma dovrebbe notarsi che ha l'effetto glow attivo e quindi fa quello sfondo chiaramente vettoriale quindi sempre noi qui lo vediamo sgranato adesso perché io ho ingrandito la schermata e sto zoomando su un bitmap che è lo schermo però se noi decidessimo di fare questo pulsante come dire due tre volte più grande come effetto proprio vedremo tutto riscalato perché abbiamo una libreria grafica che lavora molto bene con schede grafiche con degli oggetti primitivi rettangoli o testi eccetera eccetera e li disegna perfettamente quindi non fa una scalatura di bitmap a meno che noi decidiamo di lavorare con i bitmap ma lì entra in gioco tutta un'altra serie di di dinamiche che ci vengono in aiuto scegliendo ad esempio i bitmap della risoluzione più adatta senza che andiamo noi a pilotarlo ma fornendo semplicemente le versioni di questi bitmap e tutto funziona come dire praticamente in automatico quindi noi ci siamo personalizzati in interfaccia tirando su questo stile che fa già parte in realtà di delphi viene distribuito assieme ma ce ne sono tanti altri scaricabili quindi c'è il tool il package manager con cui se andiamo a fare un filtro si ipotizzo solito vado sul sito perché vedo magari anche qualche anteprima ma se noi andiamo a filtrare un fmx styles per dire quindi stili farmonchi vediamo un po di scelta tra sono arancioni blu calypso ciano ci sono fmx styles forse c'è anche la categoria ma non solo con styles c'è un template di applicazione forse qui non gli hanno non gli hanno messi quindi mi ho detto una bugia ma so che forse non è stato fatto il porti forse sbagliato la categoria ah no c'è la categoria giusta quindi ecco perché non ma dovrei mettere probabilmente style perché ogni pacchetto come titolo a style quindi su di fa una ricerca però ho visto che c'è già la categoria quindi se ne sono 43 poi ci sono anche quelli della vcl quindi qui dentro c'è già vedete lento perché comunque sta utilizzando molto la scheda grafica su questi ok copper vedete qua purtroppo non hanno una specie di hanno il loro logo che definisce che è uno stile ma non c'è come dire un un'anteprima a meno forse di entrare nel dettaglio di vedere qualcosa più nel dettaglio però sono anche sul sul sito e c'è un sito che fa una carrellata con dei link per cui tutti free to use e quindi ci sono quelli più scuri quelle più più dark grigi arancioni c'è proprio da questo ovviamente poi si possono usare direttamente oppure possono validi anche come base come quella che abbiamo utilizzato noi da customizzare perché se poi vogliamo fare una variazione e fare il nostro stile predefinito quello lo possiamo sempre fare quindi il concetto è tutta questa definizione sta dentro questo style book quindi questo style book è un po un contenitore di questa risorsa che dice qual è il modo con cui l'applicazione deve apparire nell'aspetto e l'unica cosa che fa è definire o stili predefiniti o anche stili custom per diverse variazioni perché pulsanti abbiamo il pulsante tradizionale ma potremmo avere di altro tipo ad esempio il pulsante di apertura e chiusura di una finestra e tante tante altre cose quindi detto questo qui abbiamo tutta la raccolta degli stili che possiamo usare o i default o quelli specifici andando impostare una proprietà su ogni controllo che dice qual è lo stile da utilizzare ovvero il nome dello stile il nome della definizione un po come se ad esempio quando lavorate con i css andate a definire delle classi e assegnate le classi a non so un pulsante quindi il fatto che sia un button nell'html è il nome del tag il nome dell'elemento quindi usate l'elemento button la classe può essere una variazione del class dell'elemento button oppure uno stile definito proprio da zero che gli cambia praticamente i connotati ovviamente cercando poi sempre di veicolare gli stessi eventi e far sì che un pulsante si comporti come un pulsante perché altrimenti poi l'interfaccia smette di funzionare ma questa è una raccomandazione che come dire viene fatta per cercare di non creare un programma che non funzioni ma non c'è nessun limite poi dal punto di vista dell'ambiente o comunque di quello che lo stile possa fare quindi noi ce lo possiamo sconvolgere a piacimento questa finestra viene creata all'avvio del programma in automatico ma prima di questa come vediamo nelle opzioni nelle option viene creata in realtà vengono creati mi sembrava che li avessimo già messi dei data module che sono andiamo a vedere application forms ok quindi prima ancora la finestra principale ovviamente è il nostro main form che si chiama main form guarda un po è la prima finestra che viene creata ma prima di prima di lei prima di lui a seconda che considerate il form maschile o femminile viene vengono creati questi moduli che sono come delle finestre non visibili per chi non conosce proprio delfi maniera approfondita che hanno l'obiettivo di fornire una classe con un supporto visuale cioè sono fondamentalmente delle classi che però io posso progettare a uno spazio vuoto e quindi se ho bisogno di funzionalità posso trascinare non dei controlli ovviamente visuali quindi niente di visibile ma dei componenti posso trascinare quindi dei contenitori di funzionalità e mettere poi in questa classe dei metodi eccetera eccetera quindi il vantaggio un po che hanno questi data module è che ovunque si riescano a vedere da altri moduli che possono essere quello della finestra principale o questi che sono citati come form sono dei frame ovvero sono dei pezzi di della nostra interfaccia che sono componibili e in questo caso sono anche correlati tra loro perché quello che qui viene chiamato base page frame rappresenta praticamente il frame ovvero un pezzo di interfaccia che è come dire la classe base di tutte le pagine della nostra applicazione pagina cosa vuol dire che noi abbiamo una finestra vuota e a seconda di quello che clicchiamo delle opzioni che scegliamo ci andiamo a caricare dentro un'interfaccia che rappresenta la videata perché abbiamo noi stiamo lavorando su windows testiamo su windows ma l'intento è quello di fare un'applicazione android e sappiamo che su un dispositivo android sullo schema non possiamo mettere tante cose e se abbiamo diverse viste le dobbiamo intercambiare un po come quando andate su twitter vedete i tweet cliccate su un tweet andate nel dettaglio se volete vedere la lista tornate indietro ma non avete ovviamente tutto nella stessa pagina perché altrimenti o si scrive in piccolo o diventa illegibile e quindi bisogna come dire bisogna pensare l'interfaccia in un certo modo non abbiamo detto creiamo il concetto di pagina inteso come qualcosa che mostriamo all'interno di quella schermata e creiamo questo base page frame cioè vuol dire tutte le caratteristiche di questa pagina che possiamo considerare comuni a tutte le pagine che noi andiamo a sviluppare tutte queste caratteristiche le mettiamo lì dentro in modo che ereditando da questa creiamo delle ulteriori viste diciamo chiamiamole così nella nostra applicazione che ereditano quelle caratteristiche in automatico e poi vanno aggiungere ciò che serve di specifico ovvero ad esempio il search page frame sarà una pagina con l'interfaccia di ricerca del nostro drink e nel momento in cui abbiamo finito torniamo magari alla home abbiamo l'home page frame che rappresenta la pagina iniziale della nostra applicazione quindi lì c'è il logo e il menu nel search page frame abbiamo la ricerca e come dire sia la ricerca che l'elenco dei cocktail eventualmente e poi andremo a fare ad esempio anche un detail page frame cioè una pagina da mostrare partendo magari dalla search o anche da un'altra pagina che riesca come dire da un elenco di drink selezionarne uno da indicare appunto la pagina di dettaglio per andare a scaricare e visualizzare il dettaglio di quello specifico di quello specifico drink però potremmo anche mettere un about page frame per informazioni sullo sviluppo sullo sviluppatore e i crediti e anche una pagina per l'inserimento cioè il numero di pagine sono infinite qui le abbiamo tutte qui sull'elenco a destra perché non vengono creati in automatico all'avvio del programma questo è l'intento originario cioè il fatto di non usare un controllo a schede sulla pagina principale cioè sul main form e andare con queste schede a passare da una schermata all'altra ma lasciarla vuota e caricarcele al volo con un metodino che avevamo fatto avevamo progettato l'altra volta che magari torniamo a vedere quindi non occupiamo subito tutta la memoria per caricare tutte le possibili videate del nostro programma in un controllo a schede con le schede non visibili quindi andando le parole intercambiare ma lasciamo la vuota quando abbiamo bisogno di una pagina la creiamo e la visualizziamo se dobbiamo passare un'altra distruggiamo quella pagina creiamo quella che ci serve e visualizziamo quella e così non andiamo a saturare neanche la memoria del dispositivo che pur essendo come dire insomma non sono più i nostri device mobile non sono più così sottodimensionati annetto che poi la memoria viene fatta pagare soprattutto certe marche e certi modelli però non ha senso sprecarla per una cosa che non stiamo né vedendo né utilizzando quindi l'applicazione per funzionare un conto è stabilire che funzioni un conto è come dire essere anche rispettosi di quelli che sono l'utilizzo delle risorse e dei device che abbiamo a disposizione e quindi evitare dei cicli che ci facciano saturare l'uso della cpu saturare la memoria eccetera perché poi questo ha impatti sulle altre applicazioni sul sistema operativo sulla batteria e quindi noi ovviamente abbiamo la possibilità di fare quello che vogliamo però più siamo ligi più andiamo easy e più anche perché potremmo raggiungere facilmente senza tenerci come dire frenati da questo punto di vista potremmo anche facilmente arrivare a un punto dove andiamo ad aggiungere un ulteriore elemento un ulteriore tassello il nostro castello di carte e a quel punto l'applicazione non va più perché abbiamo raggiunto il limite se noi partiamo già dall'inizio in questo modo cioè creando quello che ci serve al momento e distruggendo quello che non ci serve di volta in volta noi potremmo avere anche mille videate in questa applicazione che questo non costituirebbe affatto un problema se noi iniziamo a metterne ovviamente una quantità infinita e a creare tutto l'avvio oltre al tempo che impiegherà questa applicazione ad avviarsi e già gli utenti hanno una pazienza decisamente limitata ma questo vale anche per me quindi che magari conosco quali possono essere le problematiche ma quando io schiaccio quando il mio dito tocca lo schermo lo schermo deve rispondere non c'è niente da fare quindi i moderni device ci hanno abituati così e così dobbiamo con questo dobbiamo convivere quindi questa era un po' l'architettura iniziale andando a vedere cosa abbiamo fatto poi abbiamo fatto la nostra pagina di base ovvero è una pagina quindi questa è come dire il template delle maschere che vengono mostrate sul video e vengono intercambiate affinché in qualche modo partendo dall'home page noi vediamo praticamente sempre qualcosa quindi la nostra finestra che vedevamo prima è vuota ma all'avvio viene selezionata una pagina che è l'home page e poi se pigiamo sulla ricerca vedremo la pagina della ricerca e poi andremo al dettaglio eccetera eccetera ognuna di queste pagine è molto simile alle altre quindi noi non abbiamo fatto l'errore di copiare e incollare ma abbiamo creato un template di base cioè abbiamo creato il nostro modello di pagina questa che è il nostro base page frame frame perché è il tipo di elemento con cui abbiamo a che fare in delfi ovvero un pezzo di un'interfaccia quindi qualcosa che noi possiamo trascinare dentro a un contenitore a una finestra per crearne un'istanza e quindi vedere quello che stiamo osservando in questo momento replicato anni e volte in fase di progettazione oppure lo possiamo creare a runtime cioè scrivendo le giuste istruzioni prendiamo questa questa pagina la creiamo e la visualizziamo questa in realtà non lo andremo mai a creare perché questo è il modello è il template delle nostre pagine però non è un template che viene copiato e incollato ma un template che viene ereditato dalle pagine discendenti cioè cosa vuol dire che tutto ciò che mettiamo qui le pagine discendenti ce l'avranno quindi se vediamo nella parte alta dove avevamo messo l'altra volta un titolo un'etichetta con un titolo ovviamente qui c'è solo un segnaposto ma questo perché a noi interessa che tutte le pagine abbiano l'etichetta col titolo poi il titolo ovviamente cambierà da pagina a pagina quindi tutto ciò che noi diciamo deve esserci in tutte allora viene definito qui tutto ciò che noi diciamo deve essere diverso da pagina a pagina sarà naturalmente personalizzabile per effetto della programmazione oggetti cioè ogni cosa che ereditiamo la ereditiamo e quindi non possiamo eliminarla ma ce l'abbiamo in dote perché sappiamo che è comune a tutti la possiamo personalizzare non la possiamo come andremo a vedere non la possiamo rimuoverla quindi qui stiamo solo dicendo qui nell'etichetta faccio vedere questi cancelletti perché il testo sarà diverso da ogni pagina ma ogni pagina avrà questa etichetta col testo e col titolo in più avrà un pulsante abbiamo messo qui per tornare alla home cioè la pagina iniziale poi c'è questo componente action list che è semplicemente un collettore di azioni le azioni in delfi sono dei componenti che noi possiamo definire per dire tutte le cose che in una maschera quindi in una finestra ma anche in un pezzo di interfaccia come questo perché questo non è la nostra applicazione ma è qualcosa che apparirà al centro della finestra principale della nostra applicazione quindi la nostra finestra principale che abbiamo visto prima è vuota perché fa un po' da shell ma all'interno si avvicenderanno tutte queste pagine che sono praticamente la nostra applicazione vera e propria quindi quello fa un po' da contorno questo fa un po' da farcitura ed è proprio l'elemento su cui si svolge l'azione quindi perché c'è questa page action list? perché noi sappiamo che ogni pagina avrà come minimo delle azioni e in realtà noi ci andiamo a vedere una l'abbiamo già definita che è questa qui che è la nostra home action cioè un'azione, un comando se vogliamo usare un sinonimo che è eseguito ci porterà a fare che cosa? non lo so andiamo a vedere il codice qui c'è un home action execute c'è del codice già scritto cosa va a fare? quando viene eseguita va sul, al momento è l'unico codice che abbiamo nella nostra interfaccia cosa fa? va sul nostro modulo dell'applicazione ovvero quel modulo che contiene lo stato della nostra applicazione cioè la nostra applicazione a un certo punto avrà dei dati scaricati avrà, è visibili in quel momento, avrà una certa pagina visualizzata avrà, non so, mettiamo che facciamo un login o cose di questo tipo avrà un utente collegato oppure un utente che deve collegarsi cioè la nostra applicazione ha delle caratteristiche che variano e che dovranno essere mostrate a video e su cui noi possiamo interagire chiamando appunto dei metodi che abbiamo scritto quindi questi li abbiamo poco implementati qui stiamo solo dicendo vado nel modulo della mia applicazione set page view vuol dire vado a selezionare la vista da mostrare e seleziono la vista home quindi qui sto dicendo cara applicazione c'è da cambiare ciò che vedi visualizzato la vista, la vista della pagina quindi quella parte che tiene tutto lo spazio e rappresenta ciò che stiamo guardando andando a richiamare la page view home, cioè voglio dire voglio andare alla home come la home verrà mostrata qui in questo momento non ci interessa noi stiamo solo parlando con un agente diciamo un interlocutore, un qualcosa di intermedio che riceve queste richieste e poi in qualche modo queste richieste vengono veicolate a qualcosa che le prende in carico ce ne stiamo facendo uso di un sistema di messaggistica per dire ehi è stata fatta questa richiesta, dobbiamo andare all'home page e c'è qualcosa che dice ah ok ci penso io in questo caso nella finestra principale della nostra applicazione che ricevendo questo input dice ok vado a prendere fisicamente proprio la pagina iniziale dell'applicazione e te la faccio vedere nella finestra principale non abbiamo unito questi puntini ma abbiamo usato questo sistema di indirezione in modo che la nostra applicazione sia fatta da oggetti, componenti, controlli cioè tutta una serie di elementi che si parlano ma si parlano non guardandoli un l'altro e quindi unendosi in una rete in un groviglio di interdipendenze dove magari non so la mia finestra principale ha bisogno di chiamare che ne so una pagina la pagina però ha bisogno di parlare con la finestra principale perché deve chiedere ad essa di far vedere un'altra videata e a questo punto quando abbiamo l'uno che guarda l'altro iniziamo a avere riferimenti circolari, iniziamo a avere degli riferimenti inscindibili iniziamo a avere della logica che sì magari funziona però è ampiamente come dire connessa c'è molto coupling come si dice nel termine inglese coupling per fare un po' i fighetti cioè c'è molto accoppiamento cioè come se noi montassimo un trapano dove non so il mandrino è fuso con il motore la batteria non è cambiabile ma è dentro la come dire la plastica plastica pressofusa cioè abbiamo un qualcosa, un sistema dove tutti i componenti non sono sostituibili perché sono un blocco unico e inscindibile con gli altri e questo in progettazione del software non è mai una bella cosa qualcuno che dice ho bisogno di questo qualcuno che veicola quel messaggio qualcuno che risponde cioè abbiamo delle parti che sono interconnesse ma in mezzo c'è un filo conduttore che noi potremmo anche staccare o fare puntare a qualcos'altro quindi abbiamo un sistema che si aggancia con degli incastri tipo Lego dove una volta agganciato ovviamente tutto funziona come se il sistema fosse un blocco unico ma in realtà internamente ogni piccolo pezzettino può essere cambiato, configurato, sostituito da qualcosa di migliore, da qualcosa di diverso, da qualcosa di finto per poter fare dei test quindi manteniamo comunque una certa flessibilità e questo ci dà anche in generale come dire, dei grossi vantaggi dal punto di vista di arriva il cliente, arriva in uno dei nostri utenti io parlo di clienti perché facendo di mestiere, li chiamo così ma può essere anche un utente della nostra applicazione fatta per hobby che magari ha delle richieste o comunque ci sono dei bug da risolvere quindi noi più siamo flessibili e più siamo veloci e più ovviamente è facile che la nostra applicazione abbia successo quindi questi sono tutti fattori importanti oltre ovviamente ad avere un'idea che possa essere interessante quindi sui fattori io posso, come dire, li conosco, sulle idee sono molto più scarso e quindi è per questo che conoscendo magari bene la teoria però non vendo nulla di miliardario però diciamo questa è un po' anche l'esperienza a parlare per cui quello che facciamo qui è, come dire, implementare un comando che dice all'applicazione dobbiamo tornare alla home poi come questo venga fatto qui non ci interessa perché non è un nostro compito, non è un compito di questo punto del nostro software ma ci sarà qualcuno che, se configurato, prenderà in carica questa richiesta avrà questa delega e quindi farà è un po' come entrare in un ufficio e dire c'è da fare questo senza sapere chi lo farà però a quel punto c'è il task, il compito e qualcuno lo eseguirà questo ovviamente è un comando come si fa a eseguire un comando in defi questi comandi definiti come azioni come abbiamo visto prima sono agganciati ai controlli che fanno un po' come dei trigger ovvero io prendo il pulsante vado sulla proprietà action gli assegno questa azione vuol dire che nel momento in cui io faccio click lui andrà a eseguire questa azione questa azione dirà all'applicazione guarda che bisogna tornare nella home l'applicazione dirà ehi qualcuno ci faccia tornare alla home ci sarà la forma principale che intercetterà questo messaggio e dirà scarico questa pagina qui e ti visualizza la home tra l'altro il fatto di avere un minimo di indirezione tra queste azioni consente quantomeno questa pagina di non essere distrutta prima del tempo di non subire delle come dire delle violenze da parte della nostra logica e quindi in ogni pagina si dovrà a meno per come noi abbiamo pensato l'applicazione si dovrà poter tornare alla home e quindi a questo punto tanto vale metterla qui dove c'è la definizione di ciò che è comune a tutte le pagine quindi andare alla home il pulsante è allineato a sinistra se noi invece clicchiamo qui sullo spazio vuoto che è praticamente il nostro frame vedremo invece che qui l'allineamento è impostato con client che vuol dire che questo pezzo di interfaccia che noi vediamo quando verrà creato all'interno di un contenitore si allargerà e andrà a occupare tutto lo spazio disponibile quindi essendo qui nella page base cioè nella pagina di base vuol dire che ogni pagina quando verrà creata qui qui vediamo i bordi della finestra che finisce qui però c'è questo riquadro più interno che noi vediamo che lascia un minimo di spaziatura ed è un layout il layout in Define Firemonkey è come un pannello ma non visibile quindi è un riquadro chiaro che noi mettiamo diversi layout allineati in diversi punti creiamo praticamente dei contenitori che si agganciano ai vari angoli della finestra e mantengono o le proporzioni o i controlli all'interno allineati in un certo modo oppure riportati di seguito oppure inseriti in una griglia oppure spaziati in maniera equidistante verticalmente, orizzontalmente cioè sono tutti contenitori che accettano di andarci a buttare delle cose dentro e alcuni di questi implementano delle logiche come dire particolari per fare in modo che i componenti vengano allineati distribuiti in un certo modo questo ovviamente ci torna utile per riuscire a progettare i vari pezzi della nostra interfaccia e dargli anche delle caratteristiche tali per cui si adattino il più possibile con meno interventi possibile in questo caso a qualunque dimensione abbia lo schermo su cui noi andiamo a eseguire la nostra applicazione perché ricordiamo che noi qui la stiamo testando su Windows e potremmo anche distribuirla per Windows ma magari su Windows potremmo decidere che tutta questa finestra non ha questo orientamento verticale ma è orizzontale viene ampliata al massimo mentre sul telefono magari invece si sviluppa in verticale perché siamo abituati così e per avvederlo allo stesso modo dobbiamo ruotare cioè dobbiamo comunque avere un'interfaccia che sia il più possibile un pochino passatemi il termine un po' plastica cioè un po' malleabile e nei momenti in cui cambiano delle dimensioni i controlli vadano ad allargarsi e a riadattarsi a quella che è l'interfaccia poi è ovvio che dove non arriva ciò che otteniamo automaticamente richiederà un intervento manuale ma se siamo abbastanza bravi ce la possiamo cavare nel senso che potremmo ottenere un'interfaccia che non è ottimale ma finché rimane usabile come dire è sufficiente quindi chiaro che lì parlando nello specifico di questo argomento subentriamo su un tema che è quello dell'usabilità che ha una come dire c'è ampissimo e se ne potrebbe parlare per giorni ed è anche interessante quindi ci mancherebbe da questo punto di vista quindi qui abbiamo la nostra pagina principale quindi qui andremo dove c'è quel riquadro più interno dove io ho messo quella sorta di L quello è il contenitore delle nostre pagine quindi pagine allineate al client vuol dire che qualunque cosa finisca lì dentro si allarga e arriva fino ai bordi altrimenti rimarrebbe esattamente dove viene posizionata con delle coordinate xy quindi se si allinea al top vuol dire che si aggancia sopra ma lascia lo spazio vuoto sotto al bottom è ovviamente la stessa cosa left e right fanno la stessa cosa client vuol dire mi allargo trovo tutto lo spazio disponibile quando sono arrivato in fondo io mi mi fermo e a questo punto otteniamo che la pagina qualunque sia la dimensione della nostra finestra si allarga fino a occupare lo spazio disponibile è chiaro che se dentro i controlli sono allineati in maniera analoga o compatibile con questa impostazione che magari non vanno a capo ma si distanziano si ridimensionano e quindi vanno ad occupare in maniera ottimale lo spazio la nostra interfaccia è perfettamente come dire responsive per usare un termine mutuato dal web anche se qui non siamo ricordo sul web ma stiamo sviluppando delle applicazioni con un tool nativo sono applicazioni native non sono un browser che lancia con delle potenzialità in più che lancia un server e un istante di node per servire un'applicazione web inboxata ma queste proprio sono chiamate alle API native del sistema operativo su cui andiamo a fare il deploy della nostra applicazione che sia Windows che sia iOS che sia Android quindi questo ovviamente ha dei vantaggi in primis rispetto diciamo al consumo di meno risorse maggiore velocità da altro lato perdiamo qualcosina ad esempio ovviamente non possiamo fare degli hot reload ma per il banale motivo che la nostra applicazione non è una shell che carica qualcosa che viene passato dinamicamente è un'applicazione già compilata quindi se noi la stiamo guardando sul dispositivo e vogliamo vedere un'altra versione dobbiamo chiudere il programma e riaprire un altro ciò non vuol dire che non ci sia soluzione perché comunque anche in Delphi è disponibile un servizio e un'app che io non ho installato ma potrei anche andare a installare che riceve praticamente un'anteprima grafica di quello che io sto progettando e ce lo fa vedere e ci fa pure interagire per vedere come verrebbe graficamente e a livello comportamentale nel senso che se mettiamo delle caselle di testo possiamo scriverci dentro possiamo metterci il cursore però quando pigiamo un tasto il nostro programma normalmente farebbe una ricerca lì il tasto viene premuto ma non non è un'applicazione in esecuzione ma solo un'anteprima grafica quindi in questo modo più o meno otteniamo come dire entrambi i vantaggi anche se secondo me qui il vantaggio maggiore è quello di vedere un'applicazione su Windows utilizzare dei componenti che sono cross platform e quindi io so che se qui funziona ok su Android dovrò testarla dovrò controllare ad aver chiesto tutti i diritti e aver abilitato tutte le opzioni però mi aspetto che a un certo punto al netto di problematiche molto particolari o legate all'uso specifico di quella piattaforma io mi aspetto che il mio programma funzioni alla perfezione alla perfezione allo stesso modo quindi così come lo vedo su Windows e una volta fatto Windows Android mi aspetto che iOS Linux e tutte le altre piattaforme rispondano allo stesso modo perché tutto sommato non c'è differenza e qui stiamo disegnando l'interfaccia con una libreria grafica basata sulle librerie tipo OpenGL tipo Metal c'è quelle più standard che troviamo sui vari sistemi operativi quindi a netto di piccolissime differenze che potrebbero esserci e comunque che magari posso aggiustare mi aspetto che il mio programma funzioni esattamente in maniera uguale uniforme su tutte le piattaforme che è un ottimo risultato con un unico sorgente quindi se io so usare questo tool posso svilupparci dei client per tutte le piattaforme senza avere un reparto necessariamente orientato e schillato solo su iOS un reparto solo su Android e sono applicazioni native quindi sono applicazioni che chiamano le API di sistema quindi non è che se io faccio il deploy di ineseguibile su iOS fatto con Delphi come dire le chiamate API che fa questa applicazione sono uguali sono uguali alle chiamate API che fa l'applicazione realizzata con Xcode perché noi andiamo a scrivere codice binario di chiamata l'API quindi non è che iOS riesce a dire no ma questi byte sono gli stessi però se li scrive questo ambiente di sviluppo mi piacciono se lo scrive quest'altro no perché non per lui sono totalmente indistinguibili poi è chiaro che per certe integrazioni molto spinte non è che non sono possibili ma dovrò magari andarmi a come dire incorporare delle API molto specifiche per lavorare con quella piattaforma ma al netto di queste particolarità che ovviamente a cui ricorro proprio solo se è indispensabile per il resto questo problema non ce l'ho quindi come dire insomma ci sono ci sono dei vantaggi non indifferenti secondo me da questo punto di vista quindi detto questo ok la pagina di base l'abbiamo vista quindi queste pagine come la home page e la pagina di ricerca che già abbiamo fatto ereditando da questa avranno la stessa struttura cioè se apro ad esempio la home page vedo che se mi guardo queste due le vedo che sono praticamente identiche a netto che come dire qui abbiamo l'etichetta dove non c'è più il testo il segnaposto ma c'è un titolo specifico perché ovviamente noi l'etichetta l'abbiamo ereditata dalla classe base quindi la nostra etichetta di base cosa vuol dire che avendola ereditata ce l'abbiamo indotta se io provo a cancellarla la mente di sviluppo ovviamente mi dice ehi caro carissimo hai scelto un componente che hai ereditato quindi hai creato una nuova videata dove questo ti viene fornito di serie perché hai esteso una cosa che hai già creato dove c'è dentro questa etichetta e quindi ce la vuoi togliere la vuoi togliere nella classe base e quel punto però la togli da tutte qui non puoi toglierla però la puoi ovviamente customizzare ovvero non può essere eliminata ma al posto di quei cancelletti c'è scritto welcome e ho fatto come dire il mio titolo o l'ho personalizzato allo stesso modo quindi qui che normalmente sarebbe vuoto quindi ho mantenuto la lista delle azioni ovvero i comandi che posso fare in questa schermata e ho mantenuto il pulsante quindi dentro ci sarà l'azione che va alla home ci sarà e lo vedo ancora il pulsante che torna alla home page che lo vedo anche di qua quindi anche questo esiste perché provo a cancellarlo mi dà lo stesso errore sono tutte cose che ho inserito una volta sola e quindi utilizzando quella pagina di base come un punto di partenza ne ho creata una nuova che prende tutto quello che c'è là dentro e non è che fa una copia ma dice io mi baso su quello parto da quello e da quello customizzo quindi tutto ciò che avete in comune lo definite in quella di base e lo troverete cambiato mettiamo che non mi piaccia questo colore nero ok che ho usato sia qui sia nella pagina di ricerca perché questa è sempre la stessa label cioè ne esiste solo una in questa applicazione quindi da qui anche il vantaggio nel consumo di risorse che queste cose sono non sono definite n volte con un copio in colla ma sono standardizzate ereditate quindi questa è sempre la stessa label che viene ereditata e in ogni punto vado semplicemente a cambiargli il testo quindi supponiamo che io mi sia mi annoio un po' che abbia quel testo colore nero io vado qui nelle impostazioni del testo tra cui c'ho anche un bel font color ok tra l'altro una riga un po' un po' brutale vado a scegliere che ne so brown ok non so neanche se si vede ma adesso è un po' marroncino l'etichetta quindi io questo l'ho fatto l'avessi fatto in una pagina specifica vuol dire che in quella pagina io uso un colore marrone se in un'altra pagina uso un colore rosso blu vuol dire mi vado a personalizzare per ogni pagina il colore dell'etichetta ma facendolo qui io ho creato un nuovo default cioè laddove questa era nera e nelle altre pagine è rimasta nera cambiandola qui con questo colore marroncino se vado a richiamare la pagina iniziale la troverò sempre di quel colore cioè il marroncino perché partiva nera l'ho lasciata com'è quindi non ho cambiato il default e se il default cambia ovunque questa cosa subisce lo stesso cambiamento se qui l'avessi resa blu ovviamente dovevo andare non è che poi avessi dovuto fare molto ci clicco sopra col tasto destro scelgo reverse to inherited cioè vuol dire annulla le personalizzazioni torna la versione di base quindi quella originale prova a cliccarci tac vedete che vedete che torna esattamente con questi questo segna posto ha perso il testo cioè io il componente ce l'ho ma ho perso di fatto la personalizzazione quindi vado qui gli vado a cambiare il testo gli scrivo di nuovo welcome ok e così l'ho rimessa come era quindi questo praticamente nel file di definizione di questa finestra in questa label ci sarà scritto probabilmente vedete che questa label è ereditata vediamo se c'è eccola qua vedete che c'è questa label del titolo c'è scritto inherited cioè la prendo dalla mia base e rispetto alle caratteristiche che ha io le mantengo tutte uguali compreso il colore che sono andato a cambiare però qui abbiamo il testo uguale a welcome e quindi vediamo welcome se faccio riverto inherited questa roba scompare che vuol dire che non esiste più una customizzazione in questa pagina per quel controllo e quindi lui non va a scrivere nulla non è che scrive deve rimanere uguale non va a fare un copy in colla delle impostazioni quindi anche a livello di risorse a livello di di utilizzo cioè tutto rimane come potremmo dire molto ottimizzato e questo ovviamente si ripercuote anche sull'occupazione in memoria che ha questa applicazione quando la andiamo a lanciare su un device mobile che di memoria ce l'ha però magari conviene usarla un pochino un po' con parsimonia senza senza esagerare quindi qui abbiamo dicevamo arrivati lì l'action list dentro l'action list avrò ovviamente la mia home action cioè quella che ci porta alla home non perché io qui sono andato di nuovo a inserirla ma sempre perché le ereditiamo cioè l'abbiamo presa dalla nostra pagina di base però c'è anche una search action che esiste perché in questo caso l'abbiamo aggiunta alle azioni esistenti cioè noi diciamo la nostra la pagina di base ha delle azioni ce n'è una di serie che va alla home ereditano da quella noi abbiamo ereditato il componente con le azioni l'azione che va alla home il pulsante l'etichetta e noi a questo punto diciamo ok però qui c'è una cosa in più che è la search action cioè c'è un'azione che avvia la ricerca o comunque richiama la ricerca in questo caso nella home che cosa va a fare questa azione analogamente alla home va a dire cara applicazione è il momento di cambiare la vista e di passare alla vista di ricerca cioè analogamente con il ritorno dalla home in questo caso quello che noi andiamo a fare è dirgli devi passare devi chiamare la finestra per poter andare a fare la ricerca di un come si può dire di un di un cocktail che noi abbiamo già sviluppato quindi lì c'è l'azione in questo caso non è assegnata è assegnata a questo pulsante vedete che c'è search action l'azione vuol dire che quando clicco lì noi stiamo chiedendo all'home page l'home page farà la richiesta all'applicazione di cambiare la vista e di passare a quella di ricerca questo ovviamente avverrà veicolando un messaggio che poi in realtà viene intercettato in qualche modo e gestito dalla finestra principale e ce l'abbiamo qui il messaggio è il page view change message ovvero qui la nostra finestra principale dell'applicazione cosa va a dire va sul message manager il t message manager è il come dire il messaggero è il tipo con le funzioni i metodi e tutti i dati che implementano il servizio di messaggistica interno di questa applicazione non è una classe che abbiamo scritto noi ma è fornita così di serie default manager è l'istanza di default quindi se vogliamo andare in poche parole con un singleton noi possiamo creare un'istanza di message manager quindi ogni message manager è un è come dire una coda di tipo publish subscribe cioè è una coda dove noi possiamo spedire dei messaggi e c'è qualcuno che potrebbe dire io voglio scriverti voglio mettere del codice di risposta quando arriva quel messaggio quindi possiamo fare un po' come gli abbonamenti al giornale il giornale esce e abbiamo gli abbonati che lo ricevono default manager vuol dire prendiamo l'istanza di default che viene già creata come diciamo come aiuto cioè quindi utilizziamo un manager che è quello predefinito e che è lo stesso in tutta l'applicazione e poi facciamo subscribe to message vuol dire mi scrivo a questo messaggio quando arriva un messaggio di questo tipo qui lo andiamo a gestire come lo gestiamo gli passiamo in dote praticamente come parametro la procedura da eseguire nel momento in cui il messaggio arriva quindi la nostra finestra principale quando viene creata dice caro servizio di messaggistica quando arriva un message di page view change cioè un messaggio che mi dice che devo cambiare la vista che sto osservando nell'applicazione c'è una bella procedura da eseguire quindi questa è una procedura anonima vedete che c'è procedure e non c'è il nome quindi è una closure come si chiama in javascript equivalente di una function anonima un anonymous method cioè se scegliete il sinonimo che volete perché ogni linguaggio è il suo che semplicemente dice ok nel momento in cui arriverà quel messaggio questo è il codice da eseguire quindi questo codice noi lo passiamo in dot e verrà salvato e ti viene come dire memorizzato per poter essere usato in un secondo momento però ha la particolarità di riuscire a catturare il contesto ovvero cosa succede che quel procedure all'interno del corpo vedete che c'è un riferimento app module c'è un riferimento a show page che è un metodo che abbiamo implementato appena qui sotto che lo vedete qua sotto e dopo magari andiamo a vedere quindi c'è una funzione che viene passata come parametro eseguita dopo ma che si cattura delle variabili che sono invisibili in quel momento questa è proprio la come dire la magia della closure cioè del metodo anonimo cosa fa? semplicemente dice vado sull'app module cioè vado nella mia applicazione e gli dico qual è la vista che devo mostrare se è la home faccio show page cioè faccio vedere la pagina e scelgo il frame con l'home page quindi praticamente il frame che vedevamo prima con l'omino del logo e il pulsante di ricerca se invece è richiesta una page view search faccio vedere search page frame quindi questo show page è un metodo che torniamo ad analizzare che ha la peculiarità di accettare come parametro non un oggetto ma un riferimento è una classe è qualcosa di molto simile ai generics ma non è un generics a me piace molto di più cioè data una classe noi possiamo definire un tipo class off che consente in una variabile in un parametro di passare la classe come parametro quindi come dire non è come i generics perché i generics è più definisco un segno a posto e poi in fase di creazione dell'istanza ho una classe che praticamente ha un'implementazione che varia in base a un tipo che può essere scelto dall'utente invece qui io non do libertà sul tipo ma quello che devo andare a specificare deve essere per forza un page frame cioè lì posso passare come parametro una classe ma non può essere un object qualsiasi non può essere un button deve essere una classe di un certo tipo però passo come dato proprio la classe a cosa mi serve scelgo qual è il tipo corrispondente come classe in termini di classe a quel frame cioè quel pezzo di interfaccia che rappresenta ciò che voglio creare e mostrare dentro la finestra principale della mia applicazione questo è un pattern abbastanza diffuso e come dire abbastanza non so per dire magari inflazionato ma efficace per poter fare questo tipo di giochino talvolta anche aiutandosi con dei componenti che aggiungono degli automatismi come nel caso del frame stand cioè vanno magari a fare una sostituzione della pagina con un'animazione con un gioco di colori eccetera eccetera quindi ci sono molte opzioni qui siamo stati un po' crudi diciamo ovvero e poi la main form dopo che ha sottoscritto questo messaggio e ha stabilito cosa fare nel momento in cui viene richiesto arriva un messaggio di cambiare la pagina definisce quale va a creare a seconda di ciò che è scritto nel messaggio e poi una volta che ha fatto questo tipo di strumentazione perché qui sta semplicemente dicendo nel momento in cui arriverà questo messaggio queste saranno le cose da fare ma ancora non le va a fare attenderà il messaggio in un secondo momento e poi fa un come dire un set page view che vuol dire intanto partiamo facciamo vedere subito la home però ovviamente non andiamo anche qui secchi a far vedere vabbè poi avremmo potuto farlo visualizza la home ma facciamo un set page view con cui noi diciamo all'app partiamo dalla home e quindi l'home verrà mostrata qui c'è una domanda sarebbe possibile trasformare quel case in una classe che esegue il frame tipo il tuo esempio del calcolatore dello stipendio in un altro video ah sì ho presente sì ovunque ci sia diciamo che lì diventa un po' una factory sì si può fare in questo caso come dire non è indispensabile perché si può ipotizzare che questo case sia praticamente presente solo qua cioè non non ci sia altrove un altro codice l'esempio ho capito qual è l'esempio a cui fa riferimento che è quello dei principi solid probabilmente legato al fatto che piuttosto che usare tanti if diciamo che in quell'esempio c'è una una problematica che è questa ovvero abbiamo ci sono tipi diversi di impiegato ognuno col suo calcolo dello stipendio se non ricordo male dovrei ricordarmi perché l'ho fatto io però come sempre però è ipotizzabile che in tanti altri punti di quell'applicazione ci siano altre cose non legate a quel calcolo ma magari operazioni diverse che siano comunque discriminate in base sempre alla pagina che sia la pagina al tipo di impiegato di cui si sta parlando perché c'è un per chi non ha presente l'esempio c'è un case e a seconda del tipo di impiegato tipo consulente interno esterno eccetera c'è un un calcolo di uno stipendio quindi piuttosto che usare il case quell'architettura è stata fatta in modo da delegare questo calcolo a una classe base che inizialmente non fa nulla un'interfaccia e poi a tante classine ognuna delle quali è associata a un tipo di oddio si potrebbe fare cioè secondo me questo codice si potrebbe il case si può sempre sostituire con qualcosa di meglio ad esempio qui una cosa che potrei fare mi viene in mente potrei fare una sorta di non so page page types non lo so nulla ci vieta ad esempio di fare un dizionario ok che associ oppure oppure fare in modo che ogni pagina ad esempio si registri in qualche modo a un registro comune come dire fatto in modo che a un certo tipo di vista corrisponda un certo tipo di pagina cioè cosa voglio dire ad esempio noi potremmo dire fammi pensare un attimo potremmo fare una cosa del tipo giusto per fare un esempio visto che tanto questo lo possiamo anche un po' un po' pocciare come vogliamo ad esempio mettiamo che io ho fatto una unit pages ok qui vado a mettere in maniera privata una var quindi non visibile con un page types che è un dizionario ok un dizionario che associa ad esempio i page page view che abbiamo qui in types quindi ci importiamo la unit con il tipo numerativo ok quindi qui ad esempio c'è t page view quindi qui c'è la vista praticamente a far benissimo anzi cioè più domande ci sono meglio è così se uno vuole approfondire un concetto si vedono anche altre implementazioni e quindi almeno è poi l'obiettivo delle live altrimenti me lo farei da me e anzi così si vede anche quali possono essere le ripercussioni quindi un dizionario quindi la mia chiave è la vista ad esempio home search detail e ad esempio il valore che potremmo associare può essere andiamo a prendere la base page la classe da creare quindi qui come non ricordo che abbiamo chiamato page frame class cioè qui praticamente diciamo c'è una sorta di registro al momento è solo dichiarato quindi dovremmo fare un'inizialization andando a dire che ok dobbiamo anche importarci la unit system generics collection quindi qui potremmo dire page types lo andiamo a creare devo anche metterlo forse sopra quindi prendiamo il nostro dizionario e lo creiamo finalization finalization serve perché se abbiamo creato il nostro dizionario dobbiamo andarlo a distruggere quindi mettiamo dunque qual è la system utils la nostra ah non c'è la f giusto page types scritto ok la posso fare quindi dichiariamo questa associazione vista e a ogni vista perché la vista è un po' il concetto astratto di dire devo vedere la ricerca il page frame class è un po' come dire questa è la classe proprio dell'interfaccia che va creata se vuoi vedere quella vista cioè se vuoi vedere se vuoi vedere la home inteso in senso ideale nel senso pratico dovrai prendere l'home page frame cioè il frame della home e far vedere quello quindi qui andiamo a creare qui distruggiamo il dizionario qui ovviamente ho messo un implementation in modo che non sia visibile all'esterno l'unico modo che possiamo interagire con quel con quel dizionario è fare non so un register view page come si chiamiamola così cioè una funzione non una funzione ma una procedure che diciamo prenda questi due parametri ovvero la la view che è sempre di tipo page view e la classe che è di tipo page frame quindi è una classe ma non un tipo qualunque ma una classe che corrisponde a un frame che sia quantomeno una pagina mostrabile a video qui c'è il segnale errore perché non è implementata adesso andiamo a implementarla quindi a questo punto aggiungi anche l'end cioè questo register cosa fa? va nel dizionario e vediamo se riusciamo a scriverlo così che è anche più in modo sì cioè o facciamo un add al dizionario oppure lo scriviamo così vuol dire che alla vista che è la classe che è la chiave associamo a questa classe però tutto sto giro per fare che cosa? per fare in modo che ad esempio l'home page qui siamo nell'home page quindi questa è la nostra pagina di base noi l'abbiamo ereditata per avere tutto quello che c'è qui quindi il titolo il ritorno alla home la bandierina lo stile tutte quelle cose lì e dentro c'è un image che poi adesso qui image 1 è scritta così ma gli andiamo a dare magari un nome a questa noi abbiamo aggiunto il logo e abbiamo aggiunto questo pannello chiamiamolo command pannello dei comandi un pannello del menu ecco così è un po' più leggibile abbiamo aggiunto il tasto l'azione per andare alla ricerca qui qui potremmo dire che questa unit che definisce questa pagina nell'inizialization noi andiamo a fare uso della unit di quella pages quindi dove c'è quel dizionario per fare che cosa per dire che facciamo una register view page cioè diciamo che alla page view home corrisponde la classe che abbiamo definito qui ovvero questa home page frame all'interno di ogni unit noi abbiamo la definizione di una videata e qui diciamo guarda che questo frame che è la pagina praticamente della home lo voglio associare a questo alla vista home cioè quando idealmente vogliamo andare alla home questa è la classe da creare ed è la classe che è definita questa unit quindi se io voglio fare una nuova pagina farò adesso quella andremo a fare perché questo è il nostro compito stessa cosa questa è la home nella pagina di ricerca cioè dove andiamo a cercare i vari cocktail facciamo praticamente la stessa cosa qui abbiamo messo la nostra pagina di ricerca qui sotto diciamo ok nel momento in cui vai a caricarti questa unit esegui questa istruzione questa register view page che dice che alla richiesta della vista ci manca anche l'altro l'altra unit aggiungiamo alla richiesta della vista t page view non home non search vai a creare questa search page frame quindi se noi vogliamo fare la pagina del dettaglio del cocktail almeno imbastirla cosa possiamo fare facciamo un aggiungi nuovo file al progetto scegliamo altro andiamo qui nella nostra mascherina e andiamo negli elementi ereditabili dove troviamo tutto quello che praticamente abbiamo inserito non ci interessa tutto ma ci interessa questo abbiamo abbiamo la mainform ma non lo ereditiamo abbiamo le varie pagine ci interessa la pagina di base perché noi vogliamo partire da questa e creare una nuova quindi scegliamo questa e qui sotto scegliamo inerit quindi quando faccio ok mi andrà a creare un nuovo file che avrà le caratteristiche della pagina di base ovvero la label qui sopra che comunque è rossa perché l'abbiamo cambiata il tasto per tornare alla home l'azione per tornare alla home il contenitore delle azioni ha già tutto ha già tutto non perché è un copy and call ma perché noi gli abbiamo detto tralasciando questa variabile che la nostra pagina è class eredita da questo quindi tutto quello che c'è nella pagina di base noi lo prendiamo e lo andiamo a customizzare quindi questo è adesso questo è il nome di default andiamo a salvare la unit e gli diciamo che ad esempio a fianco dei frame home search avremo ad esempio detail page quindi ci clicco prendo solo spunto per il nome e questo lo chiamo cocktail frames detail page e così ho salvato la unit e questo lo andrò a chiamare detail page frame cioè il frame della pagina per i dettagli se volesse associare a questo punto quando all'applicazione chiedo il dettaglio devo fare in modo che venga mostrata questa vista cosa faccio qui dove l'ho definita metto anche qui non ho ancora messo nulla però andiamo a importare quelle due unit page e types che contengono poi il tipo numerativo e il dizionario e gli dico che l'applicazione gli dico che registro questo page view per la vista di dettaglio quando verrà chiesto l'applicazione la vista di dettaglio dovrà essere creato questo frame quello che ho qui dentro quindi ogni frame ogni unit che vado a creare in questo modo praticamente prendo quella di base faccio un discendente e vai in una unit e nella unit metto una chiamata che dice guarda che se io voglio far vedere questa videata come vista della mia applicazione vado a chiamare questa funzione che gli dice la registro cioè la rendo in questo modo vado sono io che vado a creare a dire che a detail corrisponde questo default page frame quindi a questo punto cosa possiamo fare qui possiamo rimuovere lo switch perché noi potremmo dire nella nostra unit delle pagine oltre a fare la register potremmo anche dire a un certo punto non so perché qui mi da questo errore ha un errore effettivo qui ho fatto io un sono confuso con C sharp ho uso troppi linguaggi qui potremmo dire facciamo anche una funzione che da questo registro tira fuori ad esempio get view page cioè ti do la possibilità di associarle però ti do anche la possibilità di dirmi io ti passo una vista che vorrei e tu mi passi la page frame class e tu mi dici qual è la classe che vuoi creare a fronte di quella vista quindi ti do anche la funzione dove qui vai a fare l'associazione qui mi dici qual è la vista che è associata cioè la pagina che è associata alla vista che ti do e qua banalmente facciamo un result page types di ok se non c'è la chiave ci va in errore quindi potremmo dire proviamo a andare nel nostro dizionario page type c'è un try get value si la chiave è la nostra view result questo try get value vuol dire che lui va a vedere se la chiave c'è se la chiave c'è prende il valore lo mette qui altrimenti mi da false quindi qui cosa faccio gli dico che for not cioè se non riesco a recuperare il valore result è nil cioè lui cosa fa va nel dizionario cerca la vista la classe della pagina da creare che è associata a questa vista se la trova in result che il valore di ritorno mi mette il valore altrimenti mi da false per dirmi che non ha trovato la chiave e quindi io passo nil in questo modo qui non va in errore ma semplicemente se mi da nil vuol dire che gli ho chiesto una vista ma non c'è il codice associato se invece mi arriva qualcosa di diverso da nil quella è la classe che rappresenta ciò che noi dobbiamo creare per vedere quella vista a video e a questo punto nel main possiamo andare a togliere questo case perché cosa diremo questo è il codice vecchio non andiamo a dire se è questo crea questo cioè usiamo il nostro registro ovvero ci importiamo la unit delle nostre di gestione delle nostre pagine e gli diciamo vado sull'app module voglio sapere la vista quindi app module è la mia page view è la vista che ho richiesto cosa vado a fare vado a prendere questo dato e gli dico get view page cioè prendo questo dato e dico accendiamo la unit andiamo nella funzione che ci restituisce per questa vista oddio abbiamo iniziato tutto per questa vista la pagina da creare e la mettiamo qui la chiamiamo la page class che è frame class quindi qui diremo che se page class è nil qui potremmo scegliere se tirare su un'eccezione cioè segnalare un errore oppure magari fare banalmente un exit vuol dire che non rispondiamo cioè non abbiamo trovato l'associazione non facciamo nulla non fare nulla di solito non è il massimo perché non si capisce poi se qualcosa ha funzionato o meno ma potremmo potremmo sollevare l'errore qui se vogliamo condividere il controllo dappertutto oppure qui se vogliamo ad esempio che l'errore sia tale solo in alcuni contesti cioè questo mi da nil e poi se il fatto di non ricevere un'informazione è un errore nel mio contesto la vado a gestire qui e gli dico classe per classe della pagina per la vista non trovata cioè tu mi chiedi di andare alla home ma nel mio registro interno non c'è nessun in questo caso posso dire che non c'è nessun frame che ha detto io sono quello che rappresenta la home c'è un ride che ci ammazza stechiti Diana ciao è in live anche stasera non ho mica vi pensavo di no perché di solito fai prima benvenuta a Diana e a tutti gli amici che ha trascinato in questo in questo in questo canale o mister javascript è molto evocativo e devo dire è un nick molto interessante ciao a tutti e grazie per il ride allora intanto sempre a memore delle quindi delle buone maniere vado di shout out così si dice shout out shout out canale di Diana che anche lì si parla di a volte direttamente o indirettamente quindi in senso più ampio di sviluppo perché si parla di accessibilità poi ci sono spesso delle interviste con dei personaggi di spicco degli sviluppatori ricordo l'ultima intervista forse ce n'è stata un'altra dopo di a kazooken che è un altro canale che adesso magari faccio non so se c'è ma così faccio shout out anche a lui dove si parla più invece delle tecnologie dot net quindi tra javascript dot net qui noi adesso stiamo parlando di Delphi quindi stavamo sviluppando un'applicazione mobile per android per andare a interrogare un database che ci dà le informazioni sui cocktail quindi abbiamo scelto non gli animali però una cosa più da ubriaconi abbiamo iniziato la settimana scorsa stavamo riguardando un po' tutto il progetto perché mi era venuto il sospetto di averlo raccontato in maniera un po' confusionaria perché ero un po' sbarrellato stasera sono sbarrellato lo stesso ma cerco di essere un po' più ordinato e quindi da una domanda di un utente stavamo guardando un po' come architetturare se si può dire la nostra applicazione in modo da avere diverse viste da creare al volo creando una sorta di registro quindi abbiamo fatto delle paginette con delle viste per l'home page delle viste per il dettaglio per la ricerca del cocktail per fare tutte queste varie funzionalità e stavamo trovando il modo di ottimizzarlo eliminando un case cioè togliendo di fatto degli if che è sempre una buona idea comunque anche in una carta di applicazione semplice e quindi abbiamo fatto il modo che ogni vista si registri cioè si associ ogni frame adesso riassunto così mi rendo conto che è molto è molto brutale molto brutto però abbiamo fatto sì che ogni file separato delle nostre videate della nostra applicazione riprendo in mano il mouse perché questo è lo strumento da usare di fatto questa è la nostra home page questa è la nostra pagina di ricerca cocktail quindi qui mettiamo il nome poi qui ci compare una lista vista così sembra vuota ma in realtà è così c'è la struttura dove compare il nome del cocktail il tipo quindi stiamo già scaricando diverse cose stiamo utilizzando una funzionalità molto comoda in questo caso cioè la traduzione da json a una tabella dati che noi possiamo agganciare direttamente la griglia in modo che nel momento in cui facciamo la richiesta e tra l'altro la possiamo fare anche direttamente dall'ambiente se io qui faccio un bel active dovrebbe se vado ad aprire ovviamente se lancio la richiesta da qui fa vedere se c'è la richiesta execute lui fa partire la richiesta mi dà un ok e quindi se torno qui dovrei vedere qualcosa esatto vediamo già tutti siamo in progettazione non stiamo eseguendo l'applicazione però la richiesta in fase di progettazione parte arrivano i dati c'è qualcosa che li traduce con questo adapter in una tabella in memoria e avendo la tabella un aggancio con questi binding questi link a questa che è la list view è un controllo di visualizzazione a list tipico dell'ambiente mobile per ogni record mi tira fuori un elemento e va praticamente a copiare da campo a campo mi fa vedere il tipo del drink e il nome qui c'è una ricerca già preimpostata con margarita ma in realtà a runtime in questa casella possiamo scriverci quello che vogliamo e quando pigiamo il pulsantino di fatto scarichiamo tutte le nostre le informazioni da quest'API che si chiama CocktailsDB trovate su cocktaildb.com che è un'API gratuita aperta poi se si iscrive a Patreon si può avere accesso farsi dare dei cocktail casuali oppure dei dati più approfonditi e quindi l'idea era come dire portarla a migliorarla portarla a complimento a compimento non a complimento un po' dislessico finendo diciamo un po' tutte le operazioni però andando un attimo a rivedere quello che è stato fatto perché effettivamente magari aveva bisogno di un approfondimento quindi tornando qui quello che abbiamo fatto qui raccogliendo la domanda che poi era un ottimo suggerimento alla fine quello che abbiamo fatto è evitare un case che a seconda delle viste da mostrare vada a tirare fuori la pagina da creare ma usando una sorta di registro dove ogni vista dice io sono quando hai bisogno della home io sono praticamente l'interfaccia da creare per la home quando hai bisogno della ricerca io sono l'interfaccia da creare per la ricerca eccetera eccetera e quindi a questo punto qui non abbiamo più bisogno del case ma quello che facciamo è usare una funzione che pesca in quel registro ovvero noi gli andiamo a dire guarda che la mia app la page view la vista attuale è impostata in un certo modo quindi io gli dico restituiscimi la pagina da creare per rispettare quella vista se è nil cioè è un valore null quindi non è una come dire non è una vista potremmo definire non è stato definito non è stata fatta l'associazione perché a questo punto essendo tutto slegato vuol dire che io potrei anche aver definito una vista e non aver nulla che si è qualificato come pagina da mostrare per quella vista qui solleva un errore che poi diventa viene mostrato a runtime e non succede poi niente se invece abbiamo ottenuto qualcosa cosa facciamo chiamiamo il nostro showpage ok cioè il metodo che prende quella vista lo fa e lo visualizza passando il valore che abbiamo ottenuto e in questo modo possiamo eliminare questo case cioè possiamo dire che non facciamo qui l'equivalenza tra vista e controllo da creare tra l'altro abbiamo un altro bel vantaggio che non utilizzando direttamente questi tipi home page frame share page frame il nostro main form non avrà nessuna conoscenza di questi che sono di queste unit queste unit adesso le possiamo togliere perché le possiamo togliere perché il nostro main form non ha conoscenza di questi tipi di pagine perché in base al valore di uno switch le deve invocare ma lui dice io prendo il valore che arriva dal registro che fa ad associazione tra vista e il tipo corrispondente quello che mi arriva lo passo al metodo che va a creare la pagina e poi qualunque sia non mi interessa quindi abbiamo anche rimosso delle dipendenze quindi a tutti gli effetti quello che abbiamo fatto per l'architettura della nostra applicazione è benefico per renderla di nuovo più dinamica quindi e questo è una buona cosa qui adesso riordino un po' le unit giusto per mantenere un pochino abbiamo genericamente cioè l'associazione tra vista e pagina da creare è stata come dire presa come logica da implementare a parte quindi abbiamo separato in una unit questa pages la gestione di questo registro ovvero c'è un dizionario che associa a vista la classe da creare per avere la parte visuale da mostrare è sotto implementation quindi è tutto nascosto ci sono delle funzioni register view page e get view page che dicono mi puoi chiamare per andare a fare un'associazione tra la vista e la pagina da creare oppure andarmi a richiedere quale è la pagina da creare per una certa vista quindi noi in questo modo qui abbiamo messo questo registro e ovunque abbiamo bisogno di questa informazione andiamo qui e lo richiamiamo il vantaggio come dire è che se noi volessimo aggiungere un nuovo tipo di pagina prima cosa dovevamo andare a fare dovevamo creare questa detail page ad esempio andare ad aggiungere non so mettiamo che vogliamo fare un about page una pagina di informazioni dobbiamo andare a creare la pagina e poi dovevamo andare nella form main e dirgli nel case che se arriva una richiesta della pagina about deve far vedere la pagina about e la main form a questo punto deve anche importare la pagina about e vederla come dipendenza invece qui questa cosa non la dobbiamo più fare perché semplicemente noi cosa faremo diremo aggiungo un nuovo elemento non è un elemento nuovo ma è un elemento ereditato in arrive table items l'ho reddito da base page frame cioè dico parto dalla pagina di base che rappresenta come dire il punto di partenza di tutte le pagine e faccio ok e ho creato una nuova pagina la pagina la vado a salvare quindi gli vado a dare un nome seguendo lo standard quindi frames c'è home page share page detail page aggiungo about page questo lo chiamo about page page frame ok quindi noi avremo nei tipi una nuova vista che potremmo definire come about qui dobbiamo per forza aggiungerlo perché è about quindi abbiamo definito questa pagina adesso dovremmo andare ad aggiungere nella main nel case quel nuovo tipo di pagina altrimenti la main form non è capace di crearlo ma noi abbiamo introdotto il nostro registro quindi noi diciamo alla nostra about page questo lo togliamo che nel momento in cui questa unit viene caricata lei deve utilizzare il registro delle pagine e i tipi cioè il tipo numerativo delle viste e fare register cioè deve registrare se stessa come t page view about come interfaccia da creare nel momento in cui all'applicazione andiamo a chiedere la pagina di about quindi quello che abbiamo ottenuto è che aggiungendo una feature nuova la implementiamo aggiungendo solo codice nuovo ovvero cioè creiamo un modulo dove la pagina nella pagina mettiamo un'istruzione che dice ci sono anch'io e se hai bisogno di essere mostrato per cioè se viene chiesta la vista di about io sono la pagina da mostrare però il main form non andiamo a toccare il main form sa già che nel momento in cui deve mostrare una pagina lui è l'incaricato ma il tipo di pagina lo va a ricavare sempre da quel registro che abbiamo creato quindi abbiamo come dire reso logico questa gestione delle pagine isolata in modo che sia gestita parte vi sia un qualcosa per poterci mettere dentro delle cose e delle funzioni per poterci estrarre delle informazioni e abbiamo migliorato l'architettura dell'applicazione perché non abbiamo più la main form la tocchiamo più mentre prima avremmo dovuto cambiare anche la main form andando ad aggiungere un case mentre in questo caso dobbiamo solo garantire che quando creiamo un nuovo elemento quindi abbiamo un sistema che più cosa aggiungiamo più le feature si espandono senza che per implementarle dobbiamo andare a toccare cioè andare ad aggiungere il codice a quello che abbiamo già scritto quindi non abbiamo testato se funzionava prima ma se la nostra applicazione continua a funzionare ovvero se il nostro main form è in grado di accedere a quel registro e recuperare dei riferimenti nel momento in cui io metto la pagina about e aggiungo come dire un nuovo tipo di pagina cioè quel codice deve continuare per forza a funzionare perché non è stato ciò che non viene cambiato e funziona deve funzionare comunque quindi l'unico difetto se c'è a quel punto sarà solo disclusivamente nel nuovo codice quindi ringraziamo Valerio per la domanda barra affermazione che alla fine ci ha fatto come dire ripensare un pezzettino dell'applicazione che è un demo buono per vedere in questo caso come usare uno dei principi solidi in realtà più di uno ovvero sia il single responsibility principle perché il main form crea aveva la responsabilità di creare le pagine e di sapere anche quale andava creata a fronte di una certa richiesta di una vista e quindi aveva già due responsabilità mentre dovrebbe averne una e forse non ha neanche quella ma ci sta che è la pagina principale la shell ci sta che vada a creare quello che noi vogliamo vedere ma ciò che va visto a seconda di determinate condizioni è una logica che ci deve essere in questo caso non case ma potrebbe anche essere molto più complessa ma non deve essere nel main form perché ti metti nel main form e fa prende in carico la visualizzazione ma decide anche in base a quali condizioni c'è da far vedere una cosa invece di un'altra e quindi questo non va bene perché sono già due cose e quindi abbiamo visto anche un esempio dell'applicazione del principio open closed perché open closed vuol dire che noi dovremmo essere rigidi come architettura ma aperti comunque al cambiamento cioè noi abbiamo creato un'architettura che è rigida ovvero non puoi registrare una cosa che non sia una pagina cioè in questa register view page io qui non ci posso scrivere tbutton perché tbutton non è un page frame non è un frame e non si vede ma c'è la bisciolina perché lui dice guarda che qui dentro tpage frame class vuol dire tu puoi passare una class ma non è che puoi passare quella che vuoi deve essere una pagina quindi page frame quindi o la classe base che noi non utilizziamo perché è astratta per noi cioè per noi esiste in quanto è il denominatore comune di tutte le pagine o un suo discendente quindi qui ci devi scrivere on page frame about page frame search page frame cioè devi mettere uno di quelli non puoi mettere la prima cosa che vuoi quindi siamo rigidi qui ci va una vista qui non puoi passare stringhe e mettiamo tutto in un dizionario la ricerca supponendo anche di avere tante viste in questo caso la ricerca rimane veloce ma dovesse essere uno spreco noi possiamo andare in questa unit e dire ok invece che un dizionario usiamo qualcosa di più di più leggero di meno complesso ma tutta questa roba qui è in implementation quindi vuol dire che noi possiamo modificarla senza che all'esterno ci siano delle ripercussioni in quanto questo è inaccessibile dall'esterno l'unico modo per accedere è usare questi metodi getViewPage queste funzioni e lo stesso sarebbe successo se invece che usare le funzioni così proprio direttamente nella unit noi qui avessimo creato una classe tipo tPageManager ok come classe andando a mettere questi come come dire metodi statici di quella classe cioè metodi che posso invocare senza su classmethodi in Delphi cioè senza andare a creare un'istanza dell'oggetto alla fine è la stessa cosa cioè non è che ci cambia se è preferibile per come cioè sarebbe stata così una classe che ha public quindi invocabili questi metodi ok però questi sono metodi normali col class diventano invocabili senza dover creare un'istanza di questa classe quindi come se fossero statici e magari qui nella sezione private andiamo a mettere un page types quindi un dizionario lo stesso dizionario che c'è qui sotto è identico quindi questa classe ha un campo privato che è una class var perché deve essere questo deve esistere nel momento in cui la classe viene viene creata oppure avrebbe potuto essere una classe tradizionale e questi diciamo dei campi tradizionali e metodi tradizionali e poi avere qui una function che ci dice get page manager ok quindi gestito con un singleton ovvero una funzione che è implementata come qui mettiamo nella var page manager di tipo page manager ok e poi andiamo a mettere una funzione che dice che se la variabile page manager è nil ok allora page manager due punti uguale andiamo a creare un'istanza se invece non è e gliela segniamo se invece non è nil vuol dire che l'abbiamo già creata e quindi la restituiamo senza dalla creare a questo punto ecco che abbiamo implementato un singleton cioè questa è una classe normale abbiamo una funzione che non dovremmo spostare qui sotto ancora meglio cioè mettere in implementation scusate non qui in modo che come dire questa non sia accessibile ma esista solo perché c'è un ok dovremmo sì in realtà deve rimanere c'è poi questa funzione che non riesce a recuperarlo quindi il tipo dobbiamo lasciarlo effettivamente super dovremmo usare un'interfaccia a quel punto e quindi avere qua un interface e poi mettere questa classe sotto ma vabbè adesso non la sto a implementare cioè noi abbiamo fatto la stessa cosa con delle funzioni statiche quindi il vantaggio di Delphi di avere un po' supportare entrambi i paradigmi è anche questo il fatto di non dover creare necessariamente questa sovrastruttura ma lasciare tutto un pochino più semplice ovvero avere queste funzioni esportate e dentro avere le funzioni che lavorano su un dizionario quando la unit viene creata quindi viene caricata questo modulo qui la andiamo a creare il dizionario e qui la andiamo a distruggere e siamo come dire a posto quindi non abbiamo più altre cose particolari da dover gestire ricordo un po' il linguaggio procedurale però se avessimo fatto una classe una classe statica un mezzo di static cioè la stessa cosa non è che cambia e poi diventa solo una questione di scrittura o di o di come ma alla fine come dire è uguale è la stessa identica identica cosa è fatto il funzionamento è lo stesso l'utilizzo è lo stesso in questo caso basta importarla a unit per vedere i metodi quindi qui abbiamo tutte e due le versioni per cui si può implementare anche così a seconda di come a uno piace vedere scritto il codice quindi se a uno gli piace a me cioè comunque così non dispiace come inizialization c'è la register e dice la view home corrisponde a questo frame che è abilitato qui a questo punto vediamo se continua a funzionare l'applicazione perché magari potrei avere qualche dubbio al link dovrebbe comparire c'è un runtime error però l'ho lanciata senza debug quindi non saprei dire qual è il item not found ah forse gli andiamo a chiedere qualcosa ah c'è giusto c'è però sì c'è un problema un problema c'è no però è strano questo vediamo il call stack andiamo a vedere il call stack register view page pages non capisco dove si verifica questo errore quindi register view page ok fa la register e poi finisce qui mi dice che non trova questa chiave ah forse questo richiede che la chiave ci sia già può essere forse mi ricordo male io va a sostituire un valore forse pretende che però mi sembra strano a meno che non ci sia un try add ok ok cioè probabilmente questo va a sostituire il valore associato a questa chiave quindi si aspetta che la chiave ci sia già perché io mi faccio un po' riferimento a dotnet e quindi dove mi sembra che lui l'aggiunga se non c'è la crea se c'è già la sostituisce quindi potremmo anche farlo così e dovremmo vedere il try add ci prova e ci dà un true forse secondo del fatto che ci riesca oppure si boolean in realtà a me non interessa come dire se ce la fa o meno eh no però mi interessa perché se lui prova ad aggiungerlo allora se se non va a buon fine il try add vuol dire che c'è già e quindi a quel punto lasciamo l'implementazione cioè o diciamo che c'è già una registrazione e quindi diamo un errore oppure la andiamo a sostituire e in questo caso quindi noi proviamo sempre andare in aggiunta e grosso modo questo varrà per la maggior parte delle ovviamente delle casistiche se non ce la facciamo sostituiamo facciamo una run adesso è partito quindi c'era questo rosso non è molto visibile però ad esempio ad esempio nell'home page potremmo disabilitare anche il tasto della home non possiamo ovviamente andarlo a rimuovere per quello che dicevamo prima ovvero siccome redditiamo dalla pagina base la pagina base viene inserito questo tasto se noi facciamo cance però diciamo mi fa comodo perché l'home page ha tutte le caratteristiche delle altre pagine forché per questo pulsante che in questo caso non vorremmo add or set value ah grazie ho visto adesso il messaggio add or set value giusto sì perché anche questo sarebbe lento perché faremmo due volte l'accesso alla chiave perché try add vuol dire ci provo però può dare che ci sia già quindi anzi magari facciamo tre volte perché ci prova se non ci riesce torna a vedere per la chiave torna a fare la ricerca andare a associare invece così add or set è esattamente quello che vogliamo intendere cioè se non ce lo aggiungi e mi aspetto che questo metodo sia già ottimizzato per fare la cosa nel modo giusto do set value ok non lo so però lì mi fido siccome fanno spesso delle quindi ok grazie per il suggerimento perché proprio non me lo ricordavo nella maniera più assoluta non è molto intuitivo secondo me sulla chiave dovrebbero implementarlo con un add or set value e così però insomma vabbè quindi sono perso un attimo ah sì qua però non vorrei a questo punto toglierlo perché il concetto qual è che se una cosa non viene messa nella base non potendolo rimuovere vuol dire che lo dobbiamo tenere dappertutto però cioè a me può far piacere che qui il tasto rimanga ma magari posso ad esempio dire che qui non lo voglio vedere visibile e a questo punto non ho bisogno di andarlo a togliere nella pagina base perché qui non lo voglio e a quel punto andarlo ad aggiungere in tutte le altre pagine ce l'ho sempre qui gestisco praticamente il caso il caso particolare perché essendo nella home page la cosa che invece voglio cambiare è quel titolo qui che fa un pochino schifo a parte il fatto che vabbè l'abbiamo messo come esempio e quindi in realtà lascerei il default per un motivo molto semplice cioè che null non so se è il concetto che si voleva esprimere io volevo il default in realtà ma facciamo così si aspetta che adesso lo vado a correggere facciamo facciamo che lo andiamo abbiamo dei discendenti visibili allora chiudi le altre pagine ok adesso vado a rimuoverlo da qui fatto di avere una rappresentazione testuale delle impostazioni è comodo perché voglio eliminare il font color vado qui elimino la definizione e a questo punto ce l'abbiamo abbiamo il default che il default non vuol dire necessariamente nero perché poi dipende dallo stile dal label style quindi in quel caso vuol dire che lui come colore non imposta nulla e si adegua allo stile nell'altro caso vuol dire che lui prova a impostare la risorsa interna che è l'etichetta in sé il testo il text quindi la label è un text racchiuso in un componente che è stilizzato che contiene anche un elemento che è il testo mentre il testo perché abbiamo anche le due cose disgiunte è proprio solo il testo quindi la label è styled quindi ha il suo il text lo posso sostituire con qualsiasi altra cosa e ok così probabilmente lo vediamo un po' meglio abbiamo eliminato il pulsante nel senso che l'abbiamo nascosto in questo modo non lo vediamo nell'home page lo vediamo nelle altre parti manteniamo come dire un default era meglio rosso questo nero non è proprio ben visibile non è il massimo qui l'effetto è dell'immagine del docking si vede perché c'è una riscalatura adesso netto che così ovviamente è brutto e così ha già un po' più senso però se noi lo riscalassimo in qualche modo lo vedremmo vediamo se funziona ancora tutto anche questo edit ha l'effetto glow sul focus quindi nel momento in cui io ci punto ci clicco dentro marga margarida faccio il search ok e questi stili invece ce li abbiamo i risultati li vediamo ancora vediamo ancora tutto clicco qui vado alla home quindi search home search home e quello che ha è che è un po' brutale e quindi andrebbe un pochino rivisto e ti bordi stondati è perché ho installato windows 11 e quindi c'è questo effetto sui bordi di stondatura anche se detesto la nuova taskbar nella maniera più assoluta che non mi fa vedere i titoli dei programmi aperti mi genera un casino ho provato a rimettere la vecchia c'è ma ci sono modi per farlo ma poi mi cambia anche il resto dell'ambiente devo metterlo un gestore del menu start che ce l'ho comunque che è anche comodo il mio start 11 della ok quindi più o meno l'applicazione l'abbiamo risistemata non abbiamo fatto grossi avanzamenti però abbiamo fatto qualche evoluzione abbiamo messo qualche pagina nuova quello che mi piacerebbe introdurre non questa volta ma la prossima è eventualmente un componente che ci consente di architettura cioè di sistemare un po' meglio i frame e fare un po' l'effetto perché da come si nota l'effetto è un pochino un po' brutale un po' netto mentre adesso qui forse non è neanche non ci dà neanche più di tanto fastidio ma nel momento in cui noi poi andiamo a lavorare sul ah l'OBS mi blocca veramente graficamente le applicazioni nei momenti in cui noi andiamo a lavorare su come dire su come si blocca interfaccia quando c'è OBS in esecuzione con il mobile siamo abituati ad esempio nel momento in cui mettiamo il dettaglio passiamo al dettaglio a vedere degli scorrimenti a vedere comunque un po' di animazioni per cui lì faremo sicuramente un po' di come dire sistemazione un po' di abbellimenti andiamo a implementare la parte mancante che è quella del dettaglio e eventualmente se ci farà in mente qualche altro refactoring di qualcosa abbiamo migliorato dal punto di vista dei messaggi dell'architettura ad esempio di scelta delle pagine e qualche implementazione nuova l'abbiamo messa giù abbiamo fatto un recap di tutto quindi direi che al prossimo appuntamento ce la concludiamo definitivamente con qualche feature in più e con gli abbellimenti dopodiché come dire il sorgente il sorgente non mi sembra di averlo già pubblicato però per chi è interessato adesso metto l'indirizzo sul sul mio github c'è una c'è una paginetta che si vede anche qua con che si chiama proprio come il canale e quindi ci sono ad esempio i i sorgenti delle live fatte in precedenza sulle applicazioni di desto con firemonkey il tethering lo user onboarding gli overlay il nostro timer pomodoro e il giochino dell'impiccato che ci ha fatto un po' sudare che però alla fine era venuto discretamente bene ovviamente può essere arricchito magari qualcuno di questi progetti prima o poi lo prenderò e lo farò diventare qualcosa di un po' più significativo dal punto di vista sia dimostrativo ma anche funzionale perché poi sono programmi che possono essere tranquillamente utilizzati anche per altre cose però i sorgenti attuali codificati nelle varie live qui ci sono mentre le repliche sono sia qui su twitch che sul sul canale youtube di cui metto anche qui il link ci vado anche cliccare così vedo se sono sia sempre operativo quindi qui trovate un po' sia questa live le precedenti quindi un po' tutte le live che sono state fatte nei tempi passati con il sorgente che invece è su github quindi anche questa andrà a far parte di questo bel sotto insieme e adesso sto un po' pensando cosa portare nelle prossime live o se cambiare anche un po' i piani settimanali per fare magari qualcosa di più leggero di più frequente c'è una live che stiamo progettando a quattro mani su un argomento sempre legato a Delphi un po' delicato quindi è partita una super canzone per cui ok direi che per stasera ci stoppiamo qui e poi mi farò un po' di appena riesco per la prossima live un minimo di piano dei lavori così vediamo di concludere l'applicazione di arrivare a compimento e così avete oltre alla spiegazione anche un nuovo progettino da scaricare per vedere come interfacciare su un API come strutturare con le metodologie che abbiamo visto e poi con i consigli di cui ringrazio ancora Valerio che ha dato l'opportunità di vedere questa architettura alternativa che alla fine si rivela migliore perché anche se piccola comunque lo sforzo di ottimizzare a volte un'applicazione è minimo e in quel modo siamo tranquilli qualunque sia il anche il come dire la dimensione che vogliamo dare poi a questa applicazione perché magari non è detto che si voglia andare ad aggiungere delle pagine con varie funzionalità e quindi a un certo punto non diventi più grande di quello che inizialmente si aspettava che fosse quindi ma poi in questo è anche una garanzia perché nei momenti in cui andate a sviluppare il codice quando non toccate altro codice siete tranquilli che quello continua a funzionare e quindi il benefit è proprio la tranquillità la pace interiore che vi dà certi tipi di architettura o di scelte architetturali e vedete che anche se il case sembra semplice a volte toglierlo magari ci abbiamo aggiunto una piccola complicazione nel senso che abbiamo fatto una mini architettura però al suo beneficio perché ci semplifica molto il fatto dopo di andare ad aggiungere in qualsiasi momento delle nuove viste e quindi poter estendere l'efficio di un'applicazione post rilascio è fondamentale perché poi le richieste arrivano anche magari a dei ritmi sostenuti per cui in quel caso potremmo avere delle richieste potremmo doverla evolvere in maniera se partiamo già male facciamo fatica se invece la strutturiamo bene fin da subito abbiamo come dire già un beneficio tangibile vediamo se magari c'è qualcuno per fare un ride anche se non siamo non siamo tantissimi però vabbè a livello a livello simbolico qui c'è una horror night il viso studio stasera direi che ci sono stanno giocando e quindi magari facciamo un ride se riusciamo all'amico all'amico Junkel così non so se riesco a farlo anche da qui che è un po' che non visito perché è stata una settimana molto molto impegnativa e quindi però adesso ci ci proviamo niente intanto ringrazio a chi si è collegato chi è stato collegato fino ad ora che ha fatto domande molto apprezzate perché alla fine ci hanno permesso di così vedere un po' un'architettura alternativa e vedere qualcosa di più e quindi di avere anche un altro esempio la prossima volta direi che punteremo a finire tutto così finiamo anche questo progetto poi vedrò un po' che idee avere per altre cose sempre da portare magari qualcosa di un po' più curioso quindi per cui vediamo se riusciamo a fare il nostro ride io vi saluto vi do appuntamento alla prossima live metto come sempre anche qui il riferimento al canale telegram che uso un po' come punto di riferimento adesso arriva il link ciao Sandro grazie per la partecipazione quindi metto il link e lì è un po' il canale che uso per gli aggiornamenti che magari qualcuno non segue i vari social lì invece trova più o meno più o meno tutto quindi diamo il via se funziona al ride e vi ringrazio di nuovo spero che sia sempre tutto utile e ci vediamo la prossima settimana ciao ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti